La riscoperta delle sue straordinarie tradizioni, una città che è stata capitale, che ha avuto nella musica uno dei suoi principali elementi costitutivi, nella cultura. Però lo voglio dire, gli ultimi tempi anche attraverso la riscoperta dei beni comuni. E tra i beni comuni c'è l'acqua, e noi siamo l'unica città d'Italia che ha rispettato il referendum sull'acqua pubblica, e la terra. L'agricoltura non è nostalgia. L'agricoltura significa che noi dobbiamo dimostrare che le nostre terre non sono diventate terra dei fuchi per mano di pochi criminali, ma deve ritornare a essere la terra della passione, della qualità, dell'energia e della forza. L'agricoltura non è il domani, l'agricoltura è presente. Napoli è la seconda città che insieme a Vienna sono le due città d'Europa che producono il maggior numero di bottini di vita. Nella città di Napoli, nella città metropolitana, nella campagna, ci sono tantissime aziende a construzione familiare di cui i protagonisti sono giovani come voi o poco più grandi di voi, che non chiedono spesso finanziamenti pubblici, ma lo fanno esclusivamente con la propria passione, con la propria forza, mettendoci in cuore. Quindi io immagino la Napoli capitale del domani è una città di turismo, di cultura, di industria, ma tanto anche di agricoltura, che serve per vivere meglio, serve per non ricorrere alle massificazioni industriali, ma guardare alla qualità, alla tradizione, alla fantasia, alla creatività di cui siamo camminati. Quindi davvero complimenti e davvero soprattutto venire tra le scuole, tra le giove, che si fa la musica, la musica, la passione, la voce di questa città. Grazie.